Oggi smontiamo il pannello dello sportello della Nissan Qashqai. Vediamo cosa staccare. Usiamo sempre questi attrezzi in plastica per non graffiare nulla e non rompere nessun tipo d'incastro. Grazie per la visione! 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 In questo punto... Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!